La Giunta Comunale di Civitanova Marche ha redatto il bilancio di previsione 2013, che sarà sottoposto al Consiglio Comunale entro fine mese. Per quanto riguarda l'Imu, il sindaco Corbatta definisce una forma di protesta nei confronti dello Stato la politica aggressiva adottata dal nostro Comune e dalle maggiori città italiane. La Giunta ha deliberato un'aliquota sulla prima casa pari al 6 per 1000, ma quelle somme specifica Corbatta i cittadini non le tireranno mai fuori. Considerando che la prima rata Imu è già stata abolita, il Comune applicando l'aliquota al 6 per 1000 prevede un introito di 600.000 euro che lo Stato, qualora abolisca anche la seconda rata, come sembra probabile, dovrà copire a vantaggio degli enti comunali. È una presa di posizione forte per lanciare un segnale chiaro. È ora di smetterla di spremere le finanze locali. Quest'anno ci troviamo a chiudere il bilancio con un ulteriore taglio di trasferimenti pari a 1.800.000 euro. Quest'anno il Comune ha prodotto anche una sensibile riduzione alla spesa pubblica, tagliando 450.000 euro. Tra i temi più dibattuti e presenti nel documento di bilancio varato dall'esecutivo, l'approvazione della Tares, la tassa sui rifiuti. I Comuni sono obbligati a coprire con l'imposta sui rifiuti l'intero costo del servizio di smaltimento, che per Civitanova Marche ammonta 7 milioni di euro. In questa somma vanno inseriti anche 190.000 euro che il Comune pagherà in più dopo la chiusura dell'inceneritore del Cosmari. Nel 2012 la copertura dei costi arrivava al 73%, mancava quindi una porzione ancora consistente e da qui deriva l'incremento. Agevolazioni tariffarie sono previste per abitazioni con unico occupante, per attività balneari e altri casi indicati nel testo.